Musiche stellari, ovvero le più belle musiche da film a Villa Nigra. Maestro, perché questa scelta? Una scelta dettata dall'entusiasmo, dalla voglia di ritornare a godere della bella musica. Abbiamo evitato un po' quel cliché retorico di fare il requiem per le vittime del Covid. Volevamo pensare al futuro, volevamo pensare al bello di godersi una serata d'estate all'aperto nel nostro teatro stellato di Villa Nigra, dove ascolteremo appunto della musica entusiasmante, magica, da Gershwin a John Williams, da Morricone a Astor Piazzolla, dal Gladiatore ai Pirati dei Caraibi. Insomma una serata di emozioni. Una grande orchestra anche in questa occasione, una grande straordinaria serata, appunto una grande orchestra. Sono 25 anni che l'orchestra Carlo Coccia è una bella realtà del territorio novarese e la nostra attività all'interno del Piemonte, ma anche in tutta Italia, è sempre stata apprezzata. Quest'anno ritorniamo molto volentieri, dopo un anno di pausa, al Villa Nigra Opera Festival, che avevamo insieme a Andrea Capelleri progettato 5 anni fa, e ritorniamo con le musiche da film, ritorniamo con le più belle colonne sonore degli ultimi decenni, e quindi aspettiamo fiduciosi il pubblico in questa splendida cornice. Dopo un anno forzato di pausa, purtroppo causa pandemia, ripartiamo con il Villa Nigra Opera Festival, quarta edizione, 23 luglio, contentissimo, orgoglioso di ospitare nuovamente in questa cornice bellissima che è Villa Nigra, che culturalmente è atta ad ospitare questo tipo di concerti, in cui il connubio è perfetto, quindi musica classica, lirica, che si sposa con questa architettura del 500-700. C'è voglia, c'è grande voglia di ripartenza, dopo un periodo nefasto, sia ai musicisti la voglia, la volontà di rimettersi in gioco, sia le persone di leggerezza, dopo un periodo veramente pesante. Presidente, la cultura fa turismo? Ma assolutamente sì, la cultura è il modo più bello per fare turismo e qua ci troviamo in una delle location, in una delle ambientazioni più belle, più raffinate di tutto il nostro territorio. Ripartire con questo genere di cultura credo che sia un segnale fortissimo, importantissimo, perché il nostro territorio da questo punto di vista ha molto da offrire. Il distretto turistico, come sempre, è presente per quanto concerne la promozione e la comunicazione e soprattutto in questo caso a sostegno dell'amministrazione di Miasino per supportare questa iniziativa che è veramente straordinaria, che si ambienta in un luogo, come ho definito, magico d'altri tempi, incantevole.